Giorgio Flamini è architetto e scenografo ed è docente di progettazione scenica e di disegno geometrico presso liceo artistico e disegno e storia dell'arte al liceo scientifico di Spoleto, ma è anche il direttore artistico della compagnia Sinenomine e Regista. Sinenomine è una compagnia di detenuti attori professionisti che Giorgio Flamini ha creato e alimentato nell'arco degli anni con spettacoli che animano anche il Festival dei Due Mondi di Spoleto, al quale abbiamo avuto modo in questi anni di poter assistere ripetutamente, poter apprezzare la crescita di questo gruppo straordinario di attori che sta veramente crescendo professionalmente all'interno di questo progetto che Giorgio Flamini ha ideato e sta portando avanti. La compagnia Sinenomine è molto importante perché le voci che leggono le audioguide nel percorso di mostra a Toccarcomano e Longobardi, ospitata appunto al Museo di Santa Giulia, sono le voci degli attori della compagnia Sinenomine. La collaborazione con il carcere di Spoleto per Italia Longobardorum è ormai una tradizione, è stata promossa sin dai primi progetti e ci ha fatto molto piacere che anche per questo progetto di inclusività il ruolo del carcere sia stato determinante. Quindi abbiamo enorme gratitudine nei confronti dell'architetto Flamini, non solo per aver accettato l'invito a partecipare al ciclo di conferenze di cui stasera potete appunto sentire, ma anche per questo suo ruolo molto attivo di animazione all'interno dei progetti di Italia Longobardorum. Quindi ringraziandolo ancora per questo duplice, plurimo operato, gli cedo molto volentieri la parola. Grazie Francesca, sono veramente felice di fare questo intervento a Brescia che reputo la città più elegante della rete. Avete in questo percorso di mostra itineranti, attualmente Toccarcomano i Longobardi, questo intervento vuole approfondire alcune situazioni locali che sono nella rete e come Francesca io sono stato tra i pionieri che hanno portato avanti la candidatura e poi successivamente abbiamo gestito il nostro sito così esteso, insomma in questa sorta di invenzione dell'Italia e quindi in questo viaggio mi faranno compagnia anche dei viaggiatori eccellenti che sono giunti nella mia città a Spoleto, la mostra Toccarcomano i Longobardi divide l'impianto della città all'interno della Buffer Zone con vicino il modello del monumento che è iscritto all'UNESCO e quindi vediamo chi ha passeggiato a Spoleto e vista a Spoleto e tra gli eccellenti c'è appunto dell'Italia che nel viaggio in Italia si ferma a Spoleto e scrive appunto in Italianish Rice dell'acquedotto, sono salito a Spoleto e sono stato sull'acquedotto che nel tempo stesso è ponte fra una montagna e l'altra, le dieci arcate che sovrastano tutta la valle costruite di mattoni resistono sicuro attraverso i secoli mentre l'acqua scorre perenne da un capo all'altro di Spoleto. È questa la terza opera degli antichi che ho innanzi a me e di cui osservo la stessa impronta, sempre grandiosa. L'arte architettonica degli antichi è veramente una seconda natura che opera conforme agli usi e agli scopi civili, è così che sorge l'anfiteatro, il tempio, l'acquedotto e adesso soltanto sento con quanta ragione ho sempre trovato delle stabili, le costruzioni fatte a capriccio come ad esempio il Winter Karsten e sulle Weise Stein un nulla che non serve a nulla o tutt'al più un'enorme bomboniera e così dicasi di altre mille cose nate morte. E qui Gaet praticamente dice che l'espressione della nostra città con questo rapporto tra Ponte delle Torri e Monteluco, questo naturale è costruito e già capisce completamente come è stato inserito bene l'ambientazione architettonica all'interno della città. Ecco Spoleto qui rappresentata come è inserita la città di Spoleto con il suo rapporto con la montagna, con Monteluco e qual è il rapporto anche rispetto a San Salvatore e a Colleciciano. Siamo praticamente ad una montagna di 830 metri sul livello del mare, abbiamo subito sotto la città, vedete tutto quanto è costruito, è costruito già nel periodo Umbro, nel sesto settimo secolo avanti Cristo, c'è un impianto urbano notevole, insomma la città di Spoleto subito viene antropizzata e gli Umbri hanno anche una straordinaria organizzazione politica, ne hanno dato prova la scoperta di alcune tombe che sono state trovate anche nei pressi del territorio suburbano e che sono raccolte nel museo archeologico. Il colle Sciciano è praticamente al nord rispetto a Spoleto e a Monteluco ed è un colle estremamente importante sia perché c'è la chiesa martiriale ma anche un colle che ha avuto sempre una grande ricchezza di acque e che probabilmente i cobardi scelgono anche come luogo di riferimento per il fatto che c'è una fonte battesimale importante proprio nella parte del crinale del colle che è appunto intitolata a San Michele Arcangelo. La chiesa di San Salvatore si trova a mezza costa ed è protetta dal cimitero ottocentesco che verrà costruito successivamente. Ecco qui un altro visitatore eccellente Hermanessa che si arriva a Spoleto la vede e dice Spoleto è la scoperta più bella che ho fatto in Italia e così ho pensato se noi due magari coi bambini un giorno venissimo a vivere uno o due mesi in questa bella città in questa stupenda regione pensaci c'è una tale ricchezza di bellezza di bellezze pressoché sconosciute di monti di valle foresti di querce conventi cascate quindi tra i vari personaggi eccellenti che hanno visitato la nostra città c'è appunto anche Hermanesse che parla anche del rapporto con anche qui tra natura e architettura tra paesaggio e città e qui abbiamo una rappresentazione del dell'unione tra naturale costruito ecco questo è praticamente il colle Sant'Elia dove è costruita la rocca pornoziana che degrada terrazze dove si sviluppa poi tutta quanta la città questa è l'imponente ponte ricordato da gate non siamo praticamente ad 80 metri sul livello del del tessino praticamente il fiume che è qua sotto insomma è che circonda tutto il colle Sant'Elia e difende sostanzialmente la città da sempre e questo è l'acquedotto che porta l'acqua alla città insomma una sorta di cordone umbilicale tra la montagna di Monteluco e il colle Sant'Elia un dall'altra parte della città c'è un fortilizio il fortilizio dei mulini che conduce l'acqua sul sul ponte delle torri il ponte delle torri è stato costruito con ogni probabilità nello stesso periodo del recinto murario medievale andiamo avanti ecco qui vediamo di nuovo il rapporto tra il colle Sant'Elia e tutto quanto il Monteluco che è una rarità Monteluco intanto viene considerato una sorta di luogo dell'eremitismo e degli eremi abbiamo avuto eremiti dal quarto quinto secolo in poi nella città di Spoleto la Framinia è una sorta di fiume in piena di cristianità insomma quando il cristianesimo arriva a Roma arriva con grande velocità anche nella città di Spoleto e degli eremiti si stanziano con ogni probabilità in tutti i boschi che si ritrovano anche nella piana ma anche nella montagna e comunque sono attestati intorno all'anno 1000 anche in Monteluco uno degli ultimi eremiti tra l'altro un architetto Luigi Landini che è stato architetto molto importante insomma realizzato la porta leonina insomma quando ci fu la salita al soglio pontificio di uno spoletino appunto di Leone XII ma anche ha realizzato delle chiese nel territorio e il restauro completo ottocentesco eh di Palazzo Campello che si trova proprio eh sotto la rocca albornoziana quello che vedete insomma quella sorta di eh piccole macchie gialle che trovate praticamente spostate sul monte del del costruito cittadino qui è stato rappresentato eh solamente la rocca albornoziana e il ponte delle torri però queste piccole macchie gialle sono sostanzialmente gli eremi e la chiesa di San Pietro e la chiesa di San Giuliano eh gli eremi perché poi nell'ottocento diventano delle ville cioè la grotta eremitica eh diventa la cantina della villa e nella e all'esterno viene costruita questa eh sorta di mh abitazione per la montagna per il fresco estivo insomma delle più grandi famiglie che avevano costruito appunto il palazzo in città andiamo avanti ecco qui una mh rappresentazione eh di quello che succede invece nel colle Sant'Elia nel periodo romano ovvero eh si entra con eh la strada Flaminia insomma quella che va da da sud verso nord ehm questo è il grande eh foro romano che con una serie di sostruzioni eccetera insomma viene realizzato nonostante la città di Spoleto ha praticamente un salto di quota di oltre cento metri e poi una serie di terrazzamenti vengono comunque realizzate sia le insule che i cardi e i decumani insomma come eh viene mh realizzato come in ogni altre città insomma compresa ovviamente Brescia eh una città importante la città di Spoleto da quando diventa eh colonia romana subito dopo di essere stata una città umbra no ricalca sostanzialmente tutte quante le mura umbra ecco quello che vedete insomma sono tratti di mura quelli continui che sono tratti di mura rimasti quelli invece tratteggio sono eh comunque ipotetici o ancora coperti circonda eh anche il ehm colle Sant'Elia nel grande salto di quota ecco questo è il ponte delle torri noi e abbiamo praticamente una sorta di serie di insule eh e anche eh la costruzione dell'anfiteatro che è fuori Estramenia fuori dalla città e invece in Estramenia abbiamo un straordinario teatro un teatro che è stato riscoperto solamente negli anni sessanta eh dopo eh dopo il festival dei due mondi e che ehm si trova proprio nei pressi di San Salvatore cioè il rapporto probabilmente eh antico del periodo Longobardo questo è un antico eh foro boario eh romano e qui c'è il l'anfiteatro e c'è un rapporto con il colle Ciciano assolutamente diretto quindi c'è anche un rapporto tra la basilica di San Salvatore questa è la basilica di San Salvatore questa è la basilica eh di San Ponzicano quella martiriale il rapporto è diretto ovviamente questo nastro di cimento che è la nuova Flaminia che attraversa il colle Sant'Elia per la realizzazione eh di una galleria non era presente c'era un rapporto di assoluta continuità come nell'altro eh lato ovvero nel eh profilo sud eh della città eh tra eh San Pietro e la città così era per San Salvatore e la città andiamo avanti ecco qui invece ho riportato una tavola che si trova su una vecchia pubblicazione eh che racconta in maniera eh sincronica tutti i vari periodi eh storici della costruzione della città di Spoleto eh con eh diciamo l'evidenza ecco il San Salvatore lo ritroviamo praticamente qui in alto subito dopo questo eh questo elemento mh a croce eh che rappresenta appunto la nascita comunque sia del monastero delle delle monache di San Ponziano che eh con la basilica di San Salvatore e ve la racconto un po' la storia della città di Spoleto perché è una è una storia eh molto in breve molto poi eh se verrete nella città di Spoleto cercatemi che eh vi farò volentieri anche eh da conduttore per eh per il giro magari anche da da San Salvatore vedere questo rapporto insomma con la città. È una città che oltre a davvero questo straordinario eh paesaggio e questo rapporto con il naturale eh con il costruito assolutamente eh conservato fino ai giorni d'oggi è sicuramente tra le città più vere più autentiche ma forse d'Italia eh dal punto di vista che non eh che non subisce delle dei restauri feroci insomma c'è un'attenzione e una cura molto particolare rispetto al restauro c'è anche una grandissima tradizione eh di restauro e di rapporto con la città. Allora quello che vedete il rosso eh praticamente sono le mura romane. Eh qui abbiamo il eh Colle Sant'Elia ehm con impostata la Rocca Albornoziana che dal 1817 in poi fino al 1982 diventa eh penitenziario pontificio poi successivamente dello Stato italiano dopo l'unità d'Italia e poi il ha praticamente eh un recupero dopo l'82 per la costruzione di un nuovo carcere al di fuori della città. Eh precedentemente nel periodo appunto dal periodo romano fino alla costruzione della Rocca Albornoziana era praticamente il luogo della eh dell'acropoli. Eh poi eh vengono realizzate anche eh due chiese eh sulle colle eh Sant'Elia eh appunto Sant'Elia e Santa Maria e eh poi successivamente con il ritorno del eh del papa da Vignone eh il cardinale eh Albornoz deve difendere eh il mh le terre del papato e quindi eh viene eh realizzato una serie di rocche questa sicuramente la più conservata anche una delle eh delle più grandi eh però ne sono eh rimaste altre ad esempio quella di Narni e quella eh di Assisi non esiste più che era probabilmente molto simile a questa no quella di Ancona ad esempio. Ecco come vedete la eh la viabilità romana è eh realizzata appunto secondo un orientamento nord e sud e est e ovest quindi abbiamo praticamente est e ovest no sono i decumani, nord e sud abbiamo praticamente i cardi, il cardomaior attraversa la città, poi c'è questa eccentrica strada in diagonale che ovviamente raccorda tutti quanti i livelli della città eh che è una eh una strada però eh assolutamente molto antica che probabilmente aveva anche un rapporto con eh la la basilica che si trova davanti al palazzo del comune, questa è l'insula eh comunis insomma dove dove è il comune e la grande parte rossa è appunto il foro. Eh nella parte diciamo di uscita dalle porte eh della città eh proprio per esigenze di popolazione eccetera vengono costruiti eh poi i borghi e nel tredicesimo secolo viene fatto anche un decreto da parte del comune di Spoleto eh per costruire il nuovo recinto murario. Si possono utilizzare le mura eh della città, si possono ehm ehm utilizzare anche come materiale eh da costruzione. Eh poi dopo la realizzazione delle mura che probabilmente non dura qualche anno insomma dura diversi anni o c'è una sorta di sovradimensionamento della città perché eh abbiamo comunque una persistenza di tantissime zone non costruite ci sono dei dei grandissimi vuoti. Il l'anfiteatro eh lo abbiamo praticamente caratterizzato eh nella parte nord della città viene globato all'interno praticamente del eh del mura eh medievali e l'anfiteatro avrà poi la costruzione di eh una serie di conventi eh nella parte superiore. Eh successivamente un altro elemento molto interessante che avviene a Spoleto è la costruzione di palazzi nobiliari insomma da rinascimento al barocco, al rococono e abbiamo una serie eh di grandi palazzi che vengono costruiti all'interno della città con eh delle grandissime eh demolizioni vengono fatte o degli sventamenti o in alcune circostanze anche degli accorpamenti ad esempio eh sulle case eh mh a schiera o o diciamo su situazioni anche di eh torri di testate d'angolo molto spesso viene inglobata sia la torre che la casa e poi viene eh realizzato con nuove aperture un eh palazzetto. In alcune circostanze è proprio la costruzione intera di un nuovo palazzo con un grande eh sventramento e la realizzazione della piazza e molto spesso abbiamo la composizione piazza, palazzo, chiesa all'interno eh della eh città di Spoleto. Eh mh altro intervento eh urbanistico di sapore anche molto eh europeo ovvero osmaniano è questo grande nastro giallo che attraversa tutta quanta la città perché la densità praticamente ma anche l'altezza ehm aveva assolutamente necessità di una nuova carrabile che fosse agevole e quindi viene realizzata attraverso la nazionale all'interno con una straordinaria demolizione a tronchi eh di gran parte della città. La costruzione eh del eh nuovo teatro cioè che del eh teatro nuovo che sostituirà per un periodo il Caglio Melisso eh che era il teatro settecentesco detto anche teatro eh dei nobili viene realizzato questo grande teatro insomma forse eh diciamo un'eredità che poi eh per Giancarlo Menotti è stata fondamentale nella scelta su sessanta città che aveva visto in Italia appunto della città eh di Spoleto. Eh sostanzialmente fino ai giorni nostri la città è rimasta eh più o meno identica. Ecco qui vi ho riportato il catastro grecoriano milottocento diecianove che è prima della grandissima demolizione del nastro giallo eh che attraversa eh tutta quanta la città. E quindi abbiamo eh la Rocca albornoziana per riportarci la la carta ho preferito rovesciarla il nord però è segnalato praticamente da questa eh freccia proprio per un discorso di impaginazione eh l'ho rovesciata. Ecco vi rendete conto di quanto in questa eh carta eh del milottocento e diecianove insomma c'è questo servizio del ministero insomma che è veramente curioso, immago se eh qualcuno di voi vuole andarci trovate anche tutte quante eh le le proprietà come vengono classificate eccetera e si può scaricare anche il il catastro antico insomma gregoriano e per quanto riguarda Spoleto è diviso eh su due tavole A e B e ehm diciamo qui vedete praticamente quant'era denso e fitto il eh tessuto edilizio all'interno della città questo eh nell'ottocento. La traversa nazionale all'interno ha un nuovo ingresso della città che viene realizzato eh con un'impostazione anche di un grande viale fatto dal Valadier. L'architetto che fa tutto questo è un architetto marchigiano è Ireneo Aleandri che aveva lavorato a Spoleto prima della traversa nazionale interna per un edificio di servizio che viene realizzato in questa parte qui dello staffolo che era eh il mattatoio eh comunale e poi un bellissimo palazzetto palazzo Nicolini che si trova praticamente in borgo sempre con quel discorso dell'accorpamento insomma perché è un'attività che viene fatta ehm ancora oggi volendo no proprio unione di proprietà e anche trasformazione a volte eh delle eh aperture per eh situazioni funzionali. Ecco qui questa eh questa ehm situazione che vedete qua qua insomma nel ci fa ancora vedere quella che è la forma dell'anfiteatro perché l'anfiteatro eh viene completamente smantellato anche in favore della costruzione eh della rocca albornoziana. Ecco qui siamo praticamente eh posizionati eh noi rispetto anche a Brescia rispetto a Castelsepio Torba rispetto a Cividale rispetto a Benevento a Monte Sant'Angelo ecco siamo praticamente eh al centro dell'Italia e vicinissimi a Campello. Ecco qui eh ho riportato insomma sia una eh sorta di ricomposizione che fanno dell'Italia insomma prima composizione dell'Italia che fanno i nocobardi eh nel seicento e eh dall'altro lato insomma la nostra carta con il simbolo eh di Italia la govatorum. E anche Gabriele D'Annunzio ha scritto eh di noi nelle città del silenzio e quindi tra le varie città ha scritto anche di Spoleto ed è tra l'altro uno di ehm che ehm probabilmente non so se si è accorto del rapporto che c'è tra fra Filippo Lippi che realizza il ehm ehm gli affreschi dell'abside del Duomo rispetto a San Salvatore e comunque insomma scrive segno romano e dorma eh Longobarda. Andiamo avanti ecco Filippo Lippi. Filippo Lippi eh e San Salvatore ehm Filippo Lippi realizza le storie della Vergine appunto nell'abside eh del del Duomo. Eh urbano ottavo eh Barberini a un certo punto vorrebbe eh rimodernare completamente anche l'abside però fortunatamente eh viene eh dove ancora salire al sogno pontificio eh era arcivesco della città di Spoleto infatti Spoleto ha una grandissima trasformazione all'interno eh con ehm una serie di citazioni insomma ed è anche presente questo eh busto di urbano ottavo fatto da Gian Lorenzo Bernini che eh adesso è conservato all'interno eh del Museo Diocesano all'interno della eh della Basilica di Santa Maria è rimasto unicamente eh il busto eh la copia insomma del busto eh del papa e mh fortunatamente invece eh fra Filippo Lippi viene eh salvato cioè il fresco eh di eh di Filippo Lippi viene salvato al centro abbiamo eh la eh Dormizio Virginis abbiamo lateralmente a destra la natività e l'annuncezione eh sulla sinistra. I registri eh architettonici che dividono le varie eh situazioni della parte absidale poi nel catino absidale c'è ovviamente l'assunta eh abbiamo eh praticamente questi eh due pilastri ecco come vedete c'è un riferimento diretto ai pilastri che si trovano all'interno della chiesa di San Salvatore ma anche questa treccia architettonica scultorea che trovate qui è praticamente quella eh del ehm dell'introdosso eh dell'architrave di ingresso della chiesa di San Salvatore. Altro elemento che ritroviamo in Santa Maria è la croce albero eh che si trova sull'architrave di San Salvatore e che viene riportata eh proprio agli eh gli ingressi eh del del Duomo di Spoleto. Ehm qui vi faccio intanto notare un'altra cosa insomma ecco vedete che qui manca un sostegno insomma no? La la composizione fatta a capriccio eh di San Salvatore è una composizione di uso eh incredibile di spoglia insomma vengono praticamente utilizzati eh degli elementi eh di composizione eh molto stravaganti troviamo capitelli rovesciati, capitelli differenti tra loro eh probabilmente provenienti dal eh forse dalla scena del teatro romano forse no bisogna è ancora diciamo in corso uno studio forse potrebbero essere anche dalla da Basilica di Sant'Anzano ci sono praticamente una serie di uso eh di spoglia e che ricombo ricompongono completamente San Salvatore. San Salvatore nasce il luogo di eh una struttura sicuramente preesistente. I Longobardi però la eleggono sicuramente a eh un elemento della propria élite eh rappresentativa proprio della loro eh della loro fede cristiana e eh come élite. Ecco tra i personaggi che attraversano la città di Spoleto c'è anche ehm Turner eh che eh oltre a rappresentare insomma in un eh meraviglioso olio il ponte delle torri di Spoleto eh prende una serie di appunti e così troviamo ehm questi suoi tacquini insomma una sorta di eh di molescan insomma questi piccoli tacquini eh che venivano utilizzati da questi artisti troviamo il profilo della città di Spoleto sia da un lato che dall'altro e ehm si vede completamente il ponte sanguinario oggi è completamente interrato eh il cassero eh trecentesco prima della porta leonina del dell'architetto citato prima Remita eh Landini ehm ecco qui vediamo ad esempio eh la cupola di San Filippo vediamo il duomo di Spoleto la chiesa di San Gregorio e un accenno del colle Ciciano questo probabilmente però è San Pozziano e non è eh San Salvatore. Nella parte superiore abbiamo invece l'ingresso sud della città di Spoleto e di qua vediamo una serie di altre rocche quella di Assisi quella di Narni il tempietto sul Clitunno quindi un tacquino eh molto interessante eh quello eh di Tarner. Andiamo avanti ecco qui siamo praticamente nelle tavole della candidatura Unesco e questo è è praticamente la nostra eh buffer che è molto estesa no raccoglie praticamente le mura romane la rocca albornoziana ecco esclude gran parte del costruito poi eh successivo trecentesco ecco queste sono le mura eh trecentesche questo torrente staffolo questo torrente tessino e ingloba completamente il cimitero insomma una sorta di protezione è stato il cimitero eh di Spoleto per la città. Andiamo avanti sempre eh nella situazione di candidatura qui con eh una carta fotografica una restituzione stereofotogrammetrica praticamente del territorio e della città ecco vedete questa è quella viabilità eccentrica che dicevamo rispetto all'impostazione dei Gardi e dei Degumani questo è il colle Cicciano qui abbiamo la grande lecceta mediterranea eh del Monteluco sapete che è anche SIC no sito di interesse eh comunitario c'è una grande protezione sia dal punto di vista della flora e della fauna eh nella situazione del Monteluco e qui abbiamo praticamente la la chiesa martiriale di San Pozziano e di qua abbiamo questa è la la nostra croce di desiderio insomma che si trova eh in questo eh minuscolo tabernacolo che sta appunto nell'abside eh di San Salvatore e ha praticamente queste catenelle con l'alfa e l'omega. Ecco qui abbiamo praticamente una rappresentazione degli edifici eh più importanti e tutelati della città di Spoleto gran parte sono anche di proprietà sia della Curia eh che del comune il comune è proprietaria della eh della chiesa di San Salvatore e ehm abbiamo praticamente ehm invece una comproprietà per quanto riguarda la rocca albornoziana con la gestione del museo nazionale del Ducato elemento estremamente importante anche per la storia Longobarda perché raccoglie poi una serie di corredi eh funerari che non provengono proprio dalla nostra zona ehm ma provengono da eh Nocera principalmente e poi c'è stato eh recentemente questo grande scambio eh tra i vari musei eh della rete. Eh questo rapporto che si è creato all'interno della eh nostra eh candidatura di una eh situazione che va da nord a sud al centro favorisce molto lo scambio della cultura ma anche la creazione di progetti culturali eh di grande importanza. Questo è il rapporto del colle Cicciano con l'Appennino eh quindi abbiamo dietro no le le nostre montagne al di là di queste no c'è tutta la meraviglia della eh della Valnerina ecco come vedete eh andiamo praticamente in questo colle sulla mezza costa e questa è la Basilica di San Salvatore in rapporto anche al ehm la chiesa di San Ponziano e al convento di San Ponziano ehm che è eh diciamo così la l'elemento eh di paesaggio eh che troviamo venendo da nord andando verso sud e poi attraversiamo praticamente il eh colle eh Sant'Elia. L'impostazione del cimitero eh viene fatta eh da un grande eh architetto. ecco qui abbiamo praticamente del riportato poi eh se ehm lo lo rileggerete perché poi abbiamo sempre comunque dei tempi abbastanza eh la figura di San Ponziano la figura di San Ponziano e e anche diciamo uno scrigno la la stessa chiesa di San Ponziano importante dal punto di vista della della sua storia. L'ultimo rifacimento è stato come per eh per il Duomo che sono stati rifatti tutti gli altari eh sempre del del Valadie insomma che era il tecnico pontificio insomma all'epoca. allora qui abbiamo invece un un altro un poeta romantico eh Shelly eh che eh arriva anche lui eh Spoleto e vede questo straordinario paesaggio eh con ehm si proseguì di giorno in giorno finché non si giunse a Spoleto. La città più romantica che io abbia mai visto c'è un acquedotto di stupefacente altezza atteso fra due montagne di roccia al di sotto c'è il letto d'un torrendite che in bianca la verde vallata col suo ampio e arido sentiero di sassi o su in alto un castello di straordinarie molle e robustezza che sovrasta la città i cui marmori bastioni sono a picco sul precipizio. Non ho mai visto quadro più impressionante di questo dove le forme della natura sono dell'ordine più grandioso ma su cui le creazioni dell'uomo sublimi per grandezza e antichità sembrano avere il predominio. Ecco ritorniamo su questa dimensione di rapporto tra naturale e costruito insomma quasi che l'architettura sia un completamento della bellezza paesaggistica e ce lo dice ehm eh Shelly quindi andiamo avanti. Ho messo questi inframezzi insomma per farvi conoscere anche un po' questi visitatori. Ecco di nuovo il colle Cicciano, il rapporto con l'impostazione dei cipressi ma anche con il rapporto con i lecci, con questo grande verde che è un verde più o meno persistente insomma sono eh sostanzialmente dei sempreverdi insomma. Ecco qui ehm siamo praticamente alla visione ottocentesca della eh Basilica di San Salvatore. Eh non è stato ancora costruito il cimitero, è stato stabilito di costruire il cimitero, la legge napoleonica non permetteva più di eh seppellire all'interno delle chiese, si costruisce il cimitero intorno alla chiesa di San Salvatore in colle Cicciano e quindi ehm la chiesa sostanzialmente diventa la chiesa eh cimiteriale. Eh vengono fatti due grandi loggiati per eh le eh sepolture illustri e nobili. Eh la chiesa precedente, una sorta di pantheon degli spolettini era la chiesa di Santi Simone Giuda, una chiesa francescana che era stata costruita a piedi con le Sant'Elia subito dopo praticamente eh la morte di Beato Simone da Collazione o della Contessa eh che eh muore praticamente al colle al convento del colle Sant'Elia. A Spoleto viene eh canonizzato Sant'Antonio da Padova eh subito dopo la morte di Sant'Antonio da Padova gli spolettini vorrebbero anche il loro santo. Successivamente questa chiesa diventa appunto il pantheon cioè tutte le famiglie illustri eh vengono seppelliti eh Santi Simone Giuda. Oggi eh sostanzialmente è utilizzata molto come teatro eh del del festival eh dei due mondi che occupa ehm tutta la eh la città insomma è una città che si presta molto a questo insomma una città che amo definire proprio eh città teatro sia dal punto di vista di quelli che sono i due arrivi insomma dove l'apertura delle montagne no eh mostra questi straordinari paesaggi che è una ehm città di teatri o di piazze teatro insomma no? C'è una sorta di sorpresa a frequentare Spoleto dove eh sostanzialmente secondo di come eh prendi una piazza, una via, un palazzo, una facciata di una chiesa può diventare fondale o quinta c'è un effetto sorpresa notevole piazza del Duomo c'è questa sorta di prospettiva rovesciata che eh è assolutamente incredibile e quello fu praticamente probabilmente il l'impressione che fece a Giancarlo Menotti, a Samuel Barber, Thomas Schippers che visitarono appunto queste eh sessanta città. Eh la chiesa di San Salvatore poi nel periodo in cui era Giorgio Ferrara il ehm direttore artistico è stata utilizzata spesso per il Festival dei Due Mondi per il teatro da Giancarlo Seppe ehm è stato fatto all'interno insomma due edizioni dei Dubliners ed è una anch'essa una situazione che si presta molto e non solo ma mh Gialson Emerick eh ha secondo me avuto un grandissimo intuito proprio nel definirla eh sostanzialmente una chiesa eh che ha un'impostazione anche teatrale perché ecco l'elemente i due elementi che mancano qua eh delle dei sostegni delle colonne dei pilastri non sono percepibili dalla ehm eh dalla navata centrale cioè la chiesa è sostanzialmente stata realizzata con una sorta di eh vero effetto scenico cioè è veramente sembra quasi una architettura di scena. Allora Giovanni Montiroli e Ireneo Aleandri sono due architetti molto importanti per la città di Spoleto ma anche per la chiesa di San Salvatore e ve lo spiego. Giovanni Montiroli è l'architetto che poi realizza il caio melisso ovvero il vecchio teatro dei nobili lo trasforma eh da teatro in legno in teatro eh in muratura. Ireneo Aleandri è l'architetto del teatro nuovo. Ireneo Aleandri realizza il eh cimitero cioè fa la prima impostazione del cimitero intorno alla chiesa di San Salvatore. Giovanni Montiroli dopo la morte del Canina era diventato praticamente l'erede eh dell'architetto Canina eh di Roma. È spoletino e realizza un accurato rilievo ottocentesco della basilica di San Salvatore che è molto importante dal punto di vista proprio di questo raffinatissimo acquerello che è conservato eh nella eh biblioteca civica a Palazzo Mauri e che tra l'altro è anche elemento dopo quest'auro eh Longobardo perché è stata eh ritrovata una fonte eh battesimale estremamente importante con una serie di simboli eh cristiani. Ecco qui vedete come era praticamente stata trasformata la basilica di San Salvatore. Intanto la chiesa era stata ridotta per quanto riguarda la Nabata per un'occupazione vedete ci sono due corpi scala subito dopo dietro la facciata per un'occupazione eh del eh convento degli Agostiniani e quindi per il convento del crocifisso. Non solo ma abbiamo anche un'esibizione eh di acque eh quindi il l'elemento acqua è estremamente importante per l'impostazione un po' di di tutte le eh le nostre eh chiese eh che sono probabilmente dedicate al Salvatore ma in questa circostanza siamo anche vicino eh al eh al San Michele appunto a questa sorta di fonte battesimale che sta sul crinale di Colle Ciciano. Ecco vedete che c'è una vasca da questa parte eh una eh fontana da quest'altra ci sono gli orti e però eh sotto c'è già la scritta eh cimitero quindi il rilievo che viene fatto da Giovanni eh Montiroli è un rilievo che viene eh realizzato eh proprio eh per per la la chiesa probabilmente eh cimiteriale. Quindi c'è un rapporto sia tra il progetto che poi vediamo successivamente eh di eh Ireneo Aleandri che rispetto alla eh basilica eh di San Salvatore. Ecco di nuovo qui abbiamo eh la basilica con questa eh meravigliosa esibizione eh di ombre sempre nel rilievo. Ecco qui arriviamo a la basilica dopo il restauro degli anni eh novanta. adesso attualmente è ancora chiusa. Ha avuto uno uno straordinario finanziamento per ehm per il terremoto. L'ultimo terremoto eh ha dato alcune noie. Insomma c'è stata un po' di cattura di materiale eccetera. Ecco siamo dietro all'arco trionfale eh della navata centrale. La basilica aveva una serie di colonne dell'impostazione eh paleocristiana. La facciata ha delle tre eh tre grandi finestre e un grande portale centrale e due altri portali. Anche qui c'è uso e rilavorazione degli spoglia eh perché ad esempio questo era un soffitto romano che ehm c'è una copia all'interno del Museo Nazionale del Ducato dove troviamo praticamente un soffitto cassetonato dietro all'impostazione della croce albero eh a due eh straordinarie mensole che erano ripetute in tutti e tre i portali. Ecco come vedete eh c'è un uso ehm degli ordini architettonici che sembra quasi casuale perché passiamo dall'ordine ionico all'ordine corinzio a dei capitelli squadrati a dei capitelli rovesciati a pezzi di tre beazione che si trovano sotto. Insomma siamo proprio in una eh sorta di ehm assemblaggio di elementi ma con un disegno assolutamente chiaro e con un disegno assolutamente eh basilicale. Eh per una parte eh troviamo una lavorazione in muratura del eh del sostegno eh dell'arco trionfale e per l'altra con elementi invece eh lavorati romani eh inseriti all'interno. Ecco ancora siamo praticamente in questa mancanza del sostegno no? Siamo sempre nell'area presbiteriale però nella navata laterale destra eh c'è una mancanza di un sostegno. Ecco qui vedete un pezzo di trabeazione eh a spessore per quanto riguarda eh questa eh colonna gigantesca e rastremata. Poi abbiamo eh il capitello quello che viene ripreso invece da Filippo Lippi per il registro architettonico eh del eh delle storie dell'assunta. Ecco come vedete qui c'è una parte in muratura e invece eh una serie di rocchi di colonna eh con eh scanalature eh un eh trebbe azione eh sempre di riuso eh di spoglia eh per quanto riguarda le parti superiori. Probabilmente invece i cuscini eh di impostazione della volta sono stati lavorati successivamente. Abbiamo ritrovato dei dei risuidi di 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 stucco e la chiesa ha avuto eh anche degli incendi quindi eh ci sono state comunque perdita di molto materiale. Ecco qui abbiamo metope triglifi, trabeazione eh una serie di eh un abaco direi di elementi architettonici completamente diversi e qui abbiamo anche residui eh di stucco. andiamo avanti. Ecco tra le figure che rilevano la chiesa uno dei più importanti è Palladio eh che rileva completamente sia la mensola eh come ha fatto anche lo stesso eh Montiroli che l'elemento eh del capitello ad ovuli eh che è stato eh citato anche eh da Filippo Lippi. Ecco e qui abbiamo invece l'impostazione del cimitero. Eh quindi la ehm il progetto generale di Ireneo Aleandri eh per il cimitero. Ireneo Aleandri è un architetto purista. È un architetto neoclassico ha praticamente eh una eh visione eh molto eh monumentale eh del eh dell'impostazione eh anche della traversa nazionale interna. Cioè la traversa nazionale interna eh all'interno della città di Spoleto eh trasforma completamente eh la visione della città. Non è più una città medievale se si traversa la la carrabile ma troviamo eh una eh eh traversa nazionale interna dove prospettano eh prospetti ehm invece ottocenteschi, puristi, insomma marcapiani eh bugnato al piano terra, finestre estremamente regolari. Sono nuove facciate che vengono fatte con l'arretramento delle facciate eh principali precedenti eh viene praticamente eh trasformato completamente il volto della città. In San Salvatore San Salvatore viene impostato a fondale quasi eh che il cimitero diventi un percorso quasi teatrale e così abbiamo un ingresso da questa parte, abbiamo una sorta di costruito che non è stato mai realizzato in quest'angolo mentre le due grandi sedere fatte di cipressi che vedete queste vengono realizzate e sono presenti ancora oggi e qui eh proprio sotto la scala che conduce al eh a San Salvatore e al e al crocifisso abbiamo eh sono state realizzate le due eh i due grandi loggiati eh dei nobili appunto dove vengono poi trasferite eh tutte le tombe che erano conservate prima nelle pantheon degli spollettini appunto in Santi Simone Giuda. Sono presenti una serie di uomini illustri eh all'interno del cimitero, un cimitero estremamente divertente anche dal punto di vista dei capricci, delle varie cappelle nobiliari eccetera insomma che sono eh esibizione eclettica, ce n'è una ad esempio di un architetto inglese che è molto interessante come come progetto ehm sono eh meravigliose le cappelle anche eh degli Arroni, dei Marignoli, la la cappella dei eh dei preti, sono eh diciamo piccoli ehm piccole costruzioni eh che citano molto eh in una situazione eh di composizione eclettica quasi una sorta di estensione di quello che i logobardi avevano fatto nella chiesa di San Salvatore eh che diciamo avevano sicuramente utilizzato no figure che avevano un'impostazione ehm di cultura architettonica eh assolutamente classica con eh un rapporto eh stretto con l'Oriente quindi con ogni probabilità in relazione diretta alla presenza eh dei monaci eh siriaci. Ecco vedete qui ho riportato alcuni elementi insomma fatti a capriccio cioè ad esempio anche una una tomba a piramide eccetera insomma e questo è il rilievo eh della del della mensola eh della mensola di San Salvatore poi alcuni elementi della mensola sono conservati eh nel eh magazzino eh dei beni culturali eh di eh Spoleto prima erano presenti all'interno della chiesa poi successivamente sono stati eh spostati. La chiesa ha come ehm diciamo funzione anche eh diventa una sorta eh di ehm all'inizio di eh martirium per i santi concordio essenzia eh le cappelle laterali sono accessibili all'inizio dall'esterno sono una sorta di protesis e diaconi con rispetto all'impostazione della eh della basilica al centro. Ecco qui ancora l'elemento architettonico no? Vedete mh come sono veramente raffinatissimi questi eh rilievi insomma con una dovizia di guardate un architetto Giovanni Montiroli assolutamente da scoprire insomma è stato anche l'architetto del duca di Alnwick in 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 Scozia e il duca di Alnwick ehm un castello in Scozia che è quello che è stato poi utilizzato da Harry Potter tutti gli interni di Harry Potter eccetera insomma sono dell'architetto Giovanni Montiroli un architetto eh eh Spollettino che ha fatto come vi ho detto anche il Caglio Melisso il rilievo di San Salvatore ma estremamente importante e mi sembra che questo eh connubio tra eh diciamo la teatralità della Basilica di San Salvatore sia nell'impostazione cimiteriale che nella eh elaborazione eh dell'impostazione urbanistica che ne dà Irenea Leandri e diciamo questi due architetti di teatri insomma che si ritrovano insieme a lavorare su San Salvatore insomma mi sembra una situazione molto interessante in continuità appunto con la nostra vocazione eh teatrale ecco qui eh insomma vi sto facendo vedere insomma ecco perché Giancarlo Sepe poi scelse questa come luogo per alcune delle sue rappresentazioni insomma questa chiesa che si trovava vicino al cimitero insomma dove il teatro si è fatto praticamente eh di notte con accanto tutti eh i nostri defunti insomma quindi una anche questa insomma una situazione sperimentale ma molto molto interessante eh tra artisti antichi e artisti eh contemporanei c'è ad esempio questo artista eh Spollettino che eh è Leoncillo Leonardi no di una famiglia estremamente importante insomma piena eh di artisti e il fratello è un intellettuale importante mh anche che diciamo sono eh durante il periodo della guerra eh sono posizionati nella resistenza ehm una scultura di Leoncillo ai giardini della Biennale che rappresentava la partigiana veneta eh eh subì un un attentato insomma venne eh distrutta da una bomba mh messa da neofascisti insomma è mh praticamente una figura che è nata a Spoleto una figura che è molto sofferente che poi nel periodo informale realizza eh queste sculture che ha eh praticamente secondo me un rapporto diretto con eh quello che eh sono eh questi sostegni mortificati eh dal tempo eh di eh San Salvatore ehm e sono proprio le pietre dice ehm Leoncillo insomma in piccolo diario eh che hanno eh suggerito a lui poi eh la sua arte. Leoncillo è assolutamente uno degli artisti eh contemporanei più importanti che abbiamo al mondo. E qui abbiamo un'altra esibizione attuale no? Ce ne sarebbe anche un'altra insomma di artista eh Giuseppe De Gregorio che realizza poi un manifesto per eh il il Festival dei Due Mondi che è un manifesto che rappresenta appunto un duca ehm e qui invece nel 1962 viene realizzata questa grande scultura eh da ehm Alexander Colder e viene nominata come ehm Teodelapio perché rappresenterebbe la corona del duca eh Teodelapio di Spoleto. Insomma una sorta di antimonumento diceva Giovanni Garandente eh che è il curatore della mostra del 62 eh che ehm viene impostato eh come eh come eh scultura architettura al centro della piazza. È la porta ferrea di Spoleto. È la porta a Longobarda della Langobardia, della modernità della Langobardia oggi eh di Spoleto. E quindi diciamo una porta, un incrocio anche per le culture e per eh diciamo la pace perché poi nel 1958 a Spoleto l'idea di Menotti è quello di realizzare una eh linea franca no tra durante la guerra fredda tra eh est e ovest e quanto mai in questo periodo non c'è bisogno di parlare di cultura ma soprattutto la cultura eh porta assolutamente alla pace. Tra le varie situazioni di modernità eh il Festival dei Due Mondi porta anche eh la necessità di costruire degli alberghi e questo albergo viene realizzato proprio nei pressi del teatro romano. Il teatro romano viene scoperto eh negli anni sessanta. Questo è uno dei primi alberghi importanti eh di Spoleto. È proprio qui che Alexander Kolder conosce eh Teodelapio perché l'albergo è dedicato ai duchi eh di Spoleto e all'interno ci sono appunto effigiati tutti quanti i duchi di Spoleto compreso eh Teodelapio e a quel punto Alexander Kolder vedendo Teodelapio e la scritta Teodelapio dice this is the name of my object. Questo è il nome per il mio oggetto. Ecco Giancarlo Menotti nel 58 dicevo no realizza questo eh festival. Subito gli viene dato due nomi. No? Uno è il matto perché gli spolettini di quel periodo non capiscono tutto questo fermento che proviene dall'America, che proviene dalle varie parti del mondo. No? Questa sorta di longobardi nuovi che occupavano eh la città. Ma l'altro appellativo è quello del duca di Spoleto. A Giancarlo Menotti viene dato il nome del duca, a Giovanni Garandente che poi adesso è sepolto eh all'ombra eh di San Salvatore viene dato il nome di principe eh di Spoleto. E il duca a Giancarlo Menotti eh porta qui Samuel Barber e Thomas Schippers e realizza questa manifestazione che è una manifestazione di incontri, di incontri eh senza eh che di situazioni provengono da diversi luoghi eccetera e quindi è praticamente una eh il luogo dello scambio della cultura. Eh ecco qui c'è una rappresentazione appunto eh del duca eh Teodelapio così come viene effigiato nel soffitto della eh della stanza dei duchi al comune di Spoleto. E con questa ultima citazione di un grandissimo poeta ma anche di un santo no vi saluto con Nil Iucundius Vidi Vallemea Spoletana. Venite a Spoleto vi aspetto e cercatemi. Arrivederci ciao ciao Francesca.